I ricavi della criminalità in Italia valgono circa l'1,7% del prodotto interno lordo, lo ha detto il ministro della giustizia Orlando, ascoltato dalla Commissione Antimafia, dove ha annunciato l'arrivo a breve delle nuove norme su corruzione e autoriciclaggio. Ci dice di più Renato De Manuele. I tempi di prescrizione dei reati non sono una specificità dell'ordinamento processuale italiano, chiarisce Orlando. Ciò che determina le disfunzioni nella macchina giudiziaria sono le regole di celebrazione del processo penale e su questo il governo provvederà nella riforma della giustizia attesa in tempi brevi. E' un intervento a tutto campo, quello del ministro, che poi si concentra sul contrasto alla criminalità organizzata. Non è più un fenomeno che riguarda prevalentemente le regioni del sud, spiega. Basti pensare che il traffico di stupefacenti determina un giro d'affari annuale pari a quello del comparto tessile e i ricavi delle mafie sono equivalenti a quasi due punti percentuali di PIL. Orlando annuncia l'introduzione del reato di autoriciclaggio, nuove disposizioni sul falso in bilancio, la punibilità della provvista di pagamenti nero nei casi di corruzione e ancora interventi sulla gestione dei beni confiscati e su quelli in amministrazione giudiziaria, un programma che convince le forze di maggioranza. Le priorità sottolineate dal ministro sono le priorità che anche la commissione ha più volte sottolineato e quindi intervenire sull'autoriciclaggio, intervenire sul falso in bilancio, intervenire sulla prescrizione, intervenire sulla normativa che riguarda i beni confiscati e le mafie e in particolare le aziende confiscate e le mafie. Molto critico invece il Movimento 5 Stelle. Chiediamo di sapere cosa pensa di fare visto che il codice unico è sbagliato da due anni e quindi tutta la tracciabilità dei flussi finanziari è oscurato dal 2010 al 2012. Infine Orlando ha garantito che le norme sul pensionamento anticipato a 70 anni dei magistrati entreranno in vigore gradualmente per non compromettere il funzionamento degli uffici.